Sui problemi reali, ma sono sufficienti iniziative importantissime sul linguaggio, al femminile, ma non iniziative concrete. Per carità, la bandiera a mezz'asta per le vittime del femminicidio, siamo tutti assolutamente solidali e ci mancherebbe, però non ci sono delle politiche attive in materia di pari opportunità. Il Ministero rappresentava un presidio, le buone pratiche sul territorio. Questa esperienza si è persa.